Attentato alla sede dell'industria aerospaziale turca, 5 morti e 22 feriti in provincia di Ankara. Gli Stati Uniti confermano ci sono prove della presenza di truppe nordcoreane in Russia, secondo l'intelligence ucraina pronte a combattere entro novembre. Sono 5 morti e oltre 20 feriti, di cui due gravi, nell'attacco di mercoledì nella sede delle industrie aerospaziali turche della compagnia statale Tuzas, nel distretto di Karaman Kanzan, a 50 km dalla capitale Ankara. Secondo la televisione turca, due individui armati hanno fatto irruzione nell'edificio e hanno preso in ostaggio diverse persone tra i dipendenti. Secondo quanto riportato dall'autorità locale, i due attentatori, un uomo e una donna, sono stati uccisi dalle teste di cuoio intervenute sul posto. La procura di Ankara ha avviato un'inchiesta. Tra le vittime ci sono quattro dipendenti della compagnia e il tassista che ha portato gli assalitori alla struttura. Al momento l'azione non è stata rivendicata da alcun gruppo, ma il governo turco ha accusato il PKK e ha sferrato diversi colpi contro obiettivi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan in Siria e in Iraq. In la prima conferma pubblica pubblica dell'Unione, la Secretaria di Loi d'Ostin ha detto di lunedì che c'è evidenza che Nord korea troops sono in Russia e che rimane a essere visto che ci sarebbero dovuto fare. As we continue to look at this, there is evidence that there are DPRK troops in Russia. So, what exactly they're doing, left to be seen. These are things that we need to sort out. We'll have more for you on that later. Hours earlier, Ukraine's military intelligence chief, Kirill Budanov, said that the first North Korean units were expected to arrive to Russia's Kursk region on Wednesday, the 23rd of October. They could supposedly help Russia resist Ukraine's incursion. Early in October, Budanov said the total number of around 11,000 North Korean troops in Russia will be ready to fight in Ukraine by the 1st of November. He said that in return, Russia is helping North Korea evade sanctions and develop its nuclear capabilities, including providing technologies for smaller tactical nuclear weapons and submarine missile launch systems. South Korea's spy chief stated that about 3,000 North Korean troops have been sent to Russia and they're now receiving training on drones and other equipment before being deployed to the battlefield in Ukraine. Vladimir Zelensky said earlier that according to the military intelligence, some North Korean officers are already in the occupied territories of Ukraine. The president of Poland, Andrzej Duda, was received Wednesday to Seoul from his homologo, Yon-Suk Kyuul. The visit of four days arrives in a moment in which the South Korea has received the send of personnel in Ukraine. It is now confirmed the presence of North Korean troops in Russia that preocupates the government of Seoul and Warsaw. Contro le minacce poste dai rispettivi vicini, i due paesi hanno deciso di rafforzare la cooperazione militare. La Corea del Sud ha recentemente acquistato droni kamikaze dalla Polonia. Regno Unito e Germania siglano un patto per la difesa, il cosiddetto Trinity House Agreement, finalizzato a promuovere la sicurezza, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro. Londra ha definito l'accordo con Berlino come storico, un percorso di collaborazione che spazia dalla produzione di armi ai pattugliamenti aerei, ad apporre la firma sul documento il ministro tedesco Pistorius e il suo omologo britannico Healey. Il gigante tedesco della difesa Rheinmetall aprirà una fabbrica nel Regno Unito per la produzione di canne e per i sistemi di artiglieria, utilizzando l'acciaio britannico. Gran Bretagna e Germania dovrebbero inoltre collaborare allo sviluppo di nuovi droni e di armi d'attacco a lungo raggio. Le pensioni sono diventate un tema caldo in Germania, con diversi partiti politici che fanno leva sulla povertà dei pensionati. Euronews ha incontrato una pensionata berlinese per chiederle quale sia la realtà. Ancia ci ha detto di ricevere 1.500 euro netti al mese dopo 45 anni come assistente geriatrica. Diversa è la situazione dei pensionati della casa di cura dove lavorava Ancia. Ancia ci ha detto che sono un'attacco di più 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 di più. e molto meno, che hanno un po' di tasche del monaco, che stanno molto male. Anche prima erano molte grandi donne, che erano a casa, che non erano abbandonati o che erano abbandonati per le donne. E sono in un'alto un po' di solito. Mi sento che erano molto alleingelassen, anche dal Stato. Euronews si è confrontata anche con il sistema pensionistico tedesco. La portavoce ha sottolineato che le pensioni sono legate all'andamento dei salari e che quest'anno sono aumentate del 4,5 per cento. Anche raccomandato di affidarsi ad altre fonti di reddito per andare in pensione. In ogni caso il sistema pensionistico tedesco permette ancora agli anziani che hanno contribuito alla società per 45 anni di andare in pensione in tutta tranquillità. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha sfruttato ancora una volta le celebrazioni della festa nazionale che cade nell'anniversario della rivoluzione del 1956 per scagliarsi contro l'Unione Europea. Il nuovo rivale di Fidesz, Tizza, ha tenuto un'imponente manifestazione a Budapest per commemorare la rivoluzione. Il leader del partito, Peter Magyar, ha criticato pesantemente le politiche filo-russe di Orbán. Még, akik egy másik népet hibáztatnak, amikor ugyanazok az oroszok támadják meg őket, akik magyar szabadságharcosok százait kínoszták meg és gyilkolták le 1956-ban és az azt követő megtorlás során. Csak két nagy politikai rendezvényt tartottak Budapesten az 56-os forradalom évfordulóján, a Fidesz-ét, illetve a Tizza pártét, amely nagy napot ünnepeltett, hiszen a mai napon először megelőzte a Fideszt egy közvéleménykutatásban. Tanács Gábor, Euronews, Budapest. Un piccolo angolo di campagna nel cuore del porto più grande d'Europa. A Rotterdam, 30 mucche occupano questa fattoria sull'acqua, producendo 600 litri di latte al giorno. Ma dietro questa impresa agricola locale si nasconde un progetto ecologico pensato per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Questa stalla galleggiante, unica al mondo nel suo genere, utilizza una serie di tecnologie per limitare la sua impronta di carbonio. Un robot automatizzato, per esempio, attraversa regolarmente la stalla. 60% less emissione. So that is about sustainable farming. Questa fattoria galleggiante, in funzione da cinque anni, ha fatto dell'acqua il cuore del suo concetto. Questa struttura ha una risposta ai rischi di inondazione ed innalzamento degli oceani e dei mari causati dal riscaldamento globale. Inoltre, l'aumento delle temperature sta aggravando lo stress idrico, che colpisce ogni anno il 20% del territorio dell'Unione Europea e il 30% della sua popolazione. La stalla galleggiante del porto di Rotterdam è dotata di due sistemi per ridurre la scarsità d'acqua. Nel suo ultimo rapporto sull'acqua, l'Agenzia Europea per l'Ambiente sottolinea che l'agricoltura rappresenta la maggiore fonte di inquinamento su questa risorsa. L'inquinamento agricolo interessa il 32% delle acque sotterranee e il 29% delle acque superficiali. L'agenzia suggerisce quindi un cambiamento nelle pratiche agricole, l'uso di nuove tecnologie e la preparazione del settore a operare con meno acqua. L'agricoltura rappresenta Grazie.